Una coppa che ha fatto gioire tutti i tifosi italiani, la coppa dei campionati europei che gli azzurri di Mancini hanno conquistato contro l'Inghilterra a Wembley al termine di un torneo pieno di gol, vittorie ed emozioni. Quella coppa sarà a Vicenza tra una settimana, esposta in loggia del Capitaniato dal 26 al 28 novembre. L'iniziativa denominata Azzurri d'Europa è promossa dall'Associazione Italiana Calciatori assieme al Comune. Si rifà un po' a quello che facciamo nel 2006 con la vittoria della Coppa del Mondo, anche in quell'occasione portiamo la Coppa a Vicenza abbinata a una mostra della Panini e facciamo questa volta altrettanto. E poi nella sala Mariano Rumor del municipio una mostra della Panini dedicata alla storia del calcio, dei mondiali e degli europei attraverso le storiche collezioni dell'azienda di figurine. La mostra ospiterà anche uno spazio dedicato a due palloni d'oro Vicentini, il compianto cittadino onorario Paolo Rossi e Roberto Baggio. E l'ingresso a entrambe le mostre sarà gratuito.